APDEF a D'Arezzo per parlare di banche, soprattutto di chi magari si è visto violare i propri diritti. APDEF è l'Associazione Europea per la Difesa dei Diritti dei Consumatori. Voi che cosa offrite? Una consulenza legale? Noi contrattiamo l'advocato Paolo Leucalitti, che è l'advocato di qui. E allora, quando arriva la gente a reclamare con noi, noi li passiamo l'advocato e facciamo la domanda civile. Una a una. Quindi non in blocco, non class action, ma singolo. No, perché in Italia già la giustizia è molto lenta. Anche in Spagna, ma non tanto come in Italia. Ma una class action in Spagna dura cinque anni di più che una individuale. E qui deve essere lo stesso o di peggio. Allora, noi parliamo sempre di nullità contrattuale. Perché stiamo dicendo che c'è un vicio-orrore nel consenso della gente che ha assegnato questi contratti. E chiediamo al giudice di anularlo. Allora, al giudice, una volta si anulla, le prestazioni si devono ritornare. Lei mi torna l'investimento e io devo ritornare l'interesse legale. Basta. Ecco, parlando della situazione, poi lo chiediamo anche all'avvocato ovviamente, parlando di Banca Etrugia, chi pagherebbe? Perché ci sono dei processi penalitari. La nuova Banca Etrugia. La nuova Banca Etrugia. Chiaramente. La banca Etrugia è stata formata con i clienti della vecchia banca. I clienti della vecchia banca che hanno assegnato tutti questi contratti non possono essere abbandonati. Ah, no, lei ha fermato la nuova e la nuova non risponde. No, risponde la nuova Banca Etrugia. La nuova Banca Etrugia